I dolori mestruali possono essere così intensi da rendere difficile lo svolgimento delle normali attività. Per questo in caso di dolori mestruali è fondamentale come prima cosa parlarne con il medico curante e concordare un trattamento adeguato. Sicuramente le piante possono venire in aiuto per alleviare i disagi, in particolare le tisane. Le tisane di millefoglio, di finocchio, di camomilla hanno proprietà antispasmo litiche, cioè aiutano a ridurre gli spasmi muscolari. Ansia e stress inoltre possono peggiorare il dolore mestruale. Ecco quindi che un prodotto come neurobalance può venire in aiuto e aiutare a contrastarli, o in alternativa una tisana di melissa che favorisce il rilassamento. Suggeriamo poi durante il ciclo un'integrazione di ferro, soprattutto in caso di perdite abbondanti. Anche se non legata direttamente ai dolori mestruali, aiuta il benessere e l'energia dell'organismo. In questo caso ovviamente consigliamo la linea Floradix a base di ferro e vitamine.